Rita, affetta da una malattia rara, è costretta a muoversi su un mezzo motorizzato per la città, per non dipendere dagli altri, ma affrontare il traffico di via Mantua e delle strade su cui sfrecciano macchine, moto e monopattini per lei è pericoloso, ma necessario perché l'ultimo medico di base che ha cambiato è in centro, mentre lei abita in periferia, allo Zeist. Un problema ulteriore è quello della carenza dei medici di base che anche a Cremona è presente, mancherebbero infatti almeno 70 figure professionali. Per alleggerire l'emergenza la regione aveva approvato una delibera che consentiva di superare il limite di 1500 pazienti per ciascun dottore, molti medici arrivano già a 2000, poi in caso di risposta affermativa i medici pensionabili potrebbero proseguire per altri due anni, anche se in questo modo il problema è solamente rimandato, ma per le persone con difficoltà ogni giorno diventa un calvario perché non sono indipendenti. Chiami gli assistenti sociali, chiami in comune, non ti rispondono, non ci sono mai. Adesso anche per andare dal dottore ci vuole l'appuntamento, se uno sta male come fa? Io ho già cambiato tre medici in pochissimo tempo perché proprio adesso ne ho cambiato uno, ho mandato uno fino in via 11 febbraio, spero che vada bene, mi hanno detto che è brava. Però non è vicina? Eh no, ho bisogno di qualcuno che mi porti e fuori i soldi e fuori i soldi, per niente. Non è comodo per chi ha bisogno poi di essere seguito? No, no, assolutamente. Per ogni azione, dalla spesa alla visita medica, è sempre necessario spendere, ma per molti la pensione è minima e gli aiuti mancano. Eh sì, poi c'è chi può e chi non può, io fortunatamente posso, però è sempre una scocciatura chiedere, chiedere, chiedere. Perché non si è indipendente? Eh sì, perché io con ste caretino vado dove posso, poi c'è il traffico e un po' paura oggi. Situazioni complicate che rischiano dunque di diventare pericolose per chi è costretto a dipendere dagli altri.